ciao ciao bentornati sul nostro canale eccoci giunti fortunatamente a fine anno è inutile dire che questo trascorso è stato un anno abbastanza difficile ma noi siamo qui a regalarvi un sorriso ed augurarvi un anno migliore mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace a questo video non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati e di seguirci anche sui nostri social instagram e facebook di cui vi lasciamo i link giù in descrizione vi auguriamo una buona visione per asfera d'astra iscriviti al canale 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 So bad. Grazie a tutti.